A stampare così A stampare così Non c'è niente da stampare così, basta andare ad un stampatore Ora la prossima mostra di faccia le faccio stampate così grossi Ah, io ce l'ho fatta una musica Sì, sono bellissime Uh, bravo, c'è C'è il dono Sotto la testa Sette 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 Le mie foto vanno su Boxring il giornale e Boxnet il sito Ah, Boxing Web No, Boxing No, Web, il giornale Sette Invece il sito è Boxnet Da La Tu sei quanta volta andrei qui Non mi ricordo Da No No La notte. Tu con me ero ambientato, stavo bene con tutti i mici. No ma stavo Finito Io Sette Forza compadre, Dyer, forza Silvio! Stasera quale è la cantoncina? E mi arriva il fumo, la vedo? Perché una volta non c'è? E' stupido! E' un po' per quella volta! Poi l'hai più perso, con due pallate di cantoncina! Ma che stai sovestizioso! La più bella è quella che aveva entrato a correre! Io non avevo un califaro! Dio, mi arrivo! W seguo, io sono raggiante di burguana! No! Come è un po' per quella parte mia! Nel colbro, vieni! Sto, come sono così ma dell'armistico? E' un po' per la parte mia, ma non mi piace? E' un po' per quello che si utilizza! E' un po' per quello che si utilizza! E' un po' per quella cosa! E' un po' per cui si utilizza! 1, 2, 3 corti con l'estalazione di respirare. Scusate, non è un'estalazione di respirare, ok? Vai! 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 Ok, non si spiegare. Ma... Ma... Non si spiegare! Temi da te rinunzi di acestale, si non si spiegare. Si non si spiegare. Ma, ma, ma... Ma, 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 ma... Si spiegare! Si spiegare! ... ... ... ... ... Grazie. C'era paura di essere un percino. Ma non c'era più di una risposta. E' un marito. Come si ripresa le mani? Stai per la mia volta. Ah, eh? Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Come sta a paura? Da quella di portare il mio cuore. Come sta a paura? Da quella di portare il mio cuore. Come sta a paura? Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Il mio cuore. Il mio cuore porta avanti. Il mio cuore porta avanti. Ora sei vicino. Il mio cuore è usato. Abbiamo fatto mille volte. Fallo. Fallo. Ok? Fallo. Io voglio vedere. Questo non è il cambio di tutto oggi adesso. Solo da. Solo da. Solo da. Vai, un video. Parfetto. Vi parlavano anche il video questo. Il mio cuore. Perché a me non lo faccio in tre secondi. quando si metta luce e mi resta da voi. Ahahahah. Video, eh? No. 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 Noi a questo. Oh. I nasce di quanti咬 anni C? No. Ah, presidente i cazzi. Certo. Il nasce che può fa? Ma la troppo fai... ... 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 Sì, si vieno a rispondere, va a rimarco. No, io vieno a rispondere, va a rispondere. Si vieno a rispondere, ti voglio prepararlo. Right, uno. Fai, topias. Topias, 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 topias. Topias. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.